Non dimenticheremo mai l'indelebile vergogna causata al paese dalla disfatta di Caporetto. Oggi possiamo lenire quel dolore, riconquistando le terre cadute sotto il gioco degli invasori asburgici. Prega per me, mamma. Prega per il regno d'Italia. 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 Return to the combat area. Feindsoldat in Sicht! Return to the combat area. Return to the combat area. Return to the combat area. Feed the guard. extended forcey state train Port of State Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Half of the enemy forces are gone. Return to the combat area. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Return to the combat area. Grazie a tutti. Return to the combat area. 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 Il kit è avvailo per il mio vocation. 50 attacchers rimane. Ascolti i soldati! Pagno! 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 Soldato da drinnen! Return to the combat area. 20 attacchi per me. Soldat gesichtet! Feitricha, soldat gesichtet! Spera! 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 We defend it well, now breathe deeply, men. Shout out with pride at this small victory, then steal yourselves again, for our fight is not over. Onward! The enemy is being reinforced by the airship Reitlich ist Rückzeug! Reitlich ist Rückzeug! Return to the combat area A flametrooper kit is available near your location Return to the combat area Flametrooper in Sicht A flametrooper kit is available near your location Return to the combat area A flametrooper kit is available near your location Return to the combat area A flametrooper kit is available near your location Return to the combat area A flametrooper kit is available near your location A flametrooper kit is available near your location Return to the combat area A flametrooper kit is available near your location No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Return to the combat area. Return to the combat area. Return to the combat area. No, 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 no. Return to the combat area. 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 A flametrooper kit is available near your location. Return to the combat area. 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 Attack on the combat area. Install at the combat area. you can be destroyed by the war. Start at the combat area. e 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 Feindsoldat in Sicht! Return to the combat area Return to the combat area Return to the combat area o 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 e o 2 It's close to victory. The Italian ranks are diminishing, but we expect one final attack. Let's show these usurpers who truly rules these mountainous lands. The enemy is being reinforced from the airship. A flame trooper is a one-on-one. A flame trooper is the first time to attack the enemy of the enemy. Let's kill your soldiers! A friendly flight to us! A friendly flight to us! A flametrooper kit is available near your location. L'Ovchev è molto grande. A flametrooper kit is available near your location. A flametrooper kit is available near your location. A flame trooper kit is available near your location. A flame trooper kit is available near your location. A flame trooper kit is available near your location. A flame trooper kit is available near your location. Return to the combat area. 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 Look who is back! T William, did you kill the camera? Return to the combat area. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. . Quattro! 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 Verteidigt das Ziel bis zum letzten Mann! Quattro! Return to the combat area. Quattro! 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 Siamo venuti a questi italiani con un hurricano di fire. Sete un esempio per i centrali potenti all'interno del mondo. Siamo orgogliosi. Non si può solo speculari ciò che un valore dell'Austro-Hungariane ha significato per il futuro dell'Europa. È possibile che il successo potrebbe unire l'impianto dell'impianto, permettendo i Habsburgi di mantenere il loro paese, le loro raci e le loro etnicità per almeno alcuni mesi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.